A due giorni dal 25 aprile, definirsi antifascisti è così complicato all'interno del centro-destra? No, non è complicato. Quello che è complicato è vedere tutti gli anni, quando si avvicina il 25 aprile, le solite polemiche di cui la gente ormai è stanca. Adesso basta, nel senso che tutti gli anni chi si sente censurato, chi si sente minacciato, le solite polemiche, anziché farla diventare la festa di tutti, della liberazione, anche un momento di festa civile di tutto il popolo italiano, tutte le volte strumentalizzazioni, polemiche, trabocchetti, trapoloni, tutte situazioni che servono solo ed esclusivamente per fare propaganda politica. Questo naturalmente non va bene. Ma oggi come oggi, ma chi? Ma siamo tutti antifascisti, ma basta.